Buonasera Grazie a tutti voi per l'affetto, per la partecipazione a questa battaglia al modo in cui vi siete vicini dall'inizio il fatto che con tanti di voi mi sono incontrato tante volte e mi sono arrivati sempre buoni consigli grazie perché questa non può essere, non l'abbiamo mai intesa come una corsa di continuazione noi abbiamo bisogno di mettere davvero qualità diverse del nostro impegno, dei impegni uniti in un momento molto particolare perché questo paese ogni giorno scivola verso una deriva comunistica quello che è successo oggi è gravissimo, inaudito eppure possiamo immaginare che domani ci sarà un secondo atto di questo attacco furifondo al Parlamento questo deve preoccuparci, non può non preoccuparci che queste tre settimane di campagna elettorale ho capito molto meglio questo paese ho incontrato tantissime persone sono entrato nelle loro case, nelle loro uffici, nei loro uomini di lavoro non ho fotografato come era la mia abitudine per il vestire che facevo nelle situazioni sono stato un po' nelle situazioni e ho capito quanta responsabilità mi è regata la politica anche se non sono spettissimi quanta fiducia, quanta responsabilità le persone danno alla politica e questo per me è un grande pericolo in questo momento noi abbiamo c'è un venticello c'è un venticello che spira noi dobbiamo mettere una barca, una vela per cercare di cogliere questa fiducia però in queste due settimane dobbiamo fare tutto quello che dobbiamo fare non dobbiamo risparmiarci non ci risparmiare e queste due settimane dimostreranno io sono convinto la nostra responsabilità di fronte alla sfida importante di queste lezioni grazie